Alessandro Tataro attaccante del Monopoli che in finale davvero ha dato grandissima prova di sé oltre ai due gol, ecco uno dei due è stato davvero un gesto tecnico straordinario, questa rovesciata eri da solo e hai deciso di fare la cosa più difficile, perché? Perché mi è sempre pregiuto fare rovesciate e ci ho provato, è venuta bene. Hai rischiato tantissimo? Eh sì, se non si rieschia non si fa niente. Molto più semplice, tra virgolette semplice, il primo in entrambi sei stato assistito dal tuo collega Fanelli. Sì, abbiamo messo due palle molto belle e io ho concretizzato queste palle. Quindi diciamo che hai anche molto estro, sei fantasioso, perché ripeto, fare questo tipo di gesti in una situazione di solitudine è rischioso? Sì, è molto rischioso, però come ho già detto se non si rieschia non si fa niente, bisogna provare tutto. Avete meritato di vincere? Sì, sì. Anche se la squadra era molto brava, abbiamo giocato a pallone e abbiamo vinto. Avete sempre avuto il pallino del gioco in mano? Sì, sì, sempre. Abbiamo giocato a palla e abbiamo fatto molte azioni e siamo riusciti a concretizzare. Due giorni a Campobasso, che cosa avete visto e che cosa avete fatto oltre a giocare le partite? Ieri sera siamo usciti in giro, siamo presi un gelato, però siamo stati sempre in un albergo. Abbiamo pranzato e siamo stati in un albergo a dormire, riposarci. Che tipo di torneo è stato? Che giudizio dai? È stato un torneo molto bello, con delle squadre molto forti. Quindi il livello è stato alto? Sì, è molto alto. E per il futuro? Adesso tu hai 15 anni, compiuti tra l'altro da poco, sei di Altamura e sei di proprietà del Monopoli. Qual è il tuo sogno? Spero di giocare nella prima squadra del Monopoli oppure andare sempre più in alto. Più in alto dove? Serie B, Serie A. In quale squadra? Spero se il bar arriva in Serie A, in Serie B. Spero di andare là. Perché è la squadra che ti fa da quando avevo quattro anni. Quindi vuoi lasciare il Monopoli? No, no. Se il Monopoli, cioè se il Bari mi chiama e il Monopoli mi lascia. Magari una rovesciata con la maglia del Bari. Magari.